Good morning a tutti voi. Siamo al capitolo settimo di Matteo, versetti 21, poi 24, 27. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. E spesso la nostra fede si può risolvere o si può ridurre a parole, lo sappiamo. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa, cioè che non è solo mettere in pratica, ma è fare la parola. Insomma, il renderla la nostra vita. Ieri sera con un gruppo di persone, un tavolo in cui stiamo pensando un percorso formativo per i giovani sulla politica, sulla politica e sul sociale, ecco, dicevamo quanto, insomma, quanto il discorso classico, ecco, che se la fede non incontra la vita, è fuffa. E se la fede non incide nel nostro modo di occuparci della polis, occuparci della società, è fuffa, non è niente. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà e quindi chi è, come dire, è cristiano, è cristiano nel proprio mondo, nelle proprie scelte, nel proprio lavoro, che sia un operaio, che sia un imprenditore, chi fa la volontà del Padre. E oggi questa è una questione grande, insomma, essere cristiani, essere cristiani, per me essere cristiano, incide nella mia vita, nella mia vita pratica, nella mia vita di tutti i giorni, non solamente nel mio, che ne so, ascoltare il Vangelo, andare a messa, avere la mia vita interiore, questa è una importantissima, ma nella mia vita concreta, incide sì o no? Beh, è una cosa grossa questa. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Il nostro costruire la casa sulla roccia, per noi è anzitutto costruire la nostra giornata su questa parola. Ma non basterebbe appunto ascoltarla. Bisogna diventarla, bisogna sì che diventi vita, che diventi vita concreta. Bene, le cose belle della giornata di ieri. Beh, intanto grazie a chi l'altra sera ha partecipato alla Catechesi. Ieri mi ha telefonato una persona dalla Svizzera, e poi ho visto dei commenti da Buenos Aires addirittura. L'altro giorno qualcuno mi ha scritto dal Kansas. È bello sentirsi uniti in modo unico, imprevedibile, in tante parti del mondo. Questa è una cosa che mi stupisce molto, ecco, ovviamente. Ne sono molto grato. Poi questo incontro che abbiamo fatto perché credo che veramente la politica, come diceva Paolo VI, sia la più grande carità che si possa vivere. E quindi queste sono cose belle. Poi ci sono dei giovani che stanno organizzando due begli incontri con Silvano Petrosino e Don Michele Falabretti. E ho visto che si sono attivati con entusiasmo. Ale, buona giornata.